Buongiorno a tutti, sono Paola Boccardi, mi candido come delegata alla Cassa con la lista numero 4, la lista gialla con il nome Noi Avvocati. Siamo sempre noi, siamo Noi Avvocati, siamo un gruppo di avvocati milanesi, la maggior parte dei quali conoscete, in quanto alcuni di noi si sono in consiglio in questo momento, che appunto ci candidiamo per poter accedere a Cassa Forense. Io credo che sia molto importante che l'Avvocatura milanese venga a votare e che scelga, che il sottolineo scelga i delegati che vorranno che rappresentino l'Avvocatura milanese. Questo perché Milano deve avere una voce, deve avere una voce forte, forse quella che fino ad oggi è un po' mancata e perché Cassa Forense deve sapere rispondere all'esigenza dell'Avvocatura e rispondere con tutte le modalità più opportune, quindi con l'assistenza oltre che con la Previdenza. Abbiamo un programma che è sul nostro sito, noiavvocati.it, che voi potrete naturalmente vedere, visitare e valutare, valutare dei contenuti, ma il programma parte con una richiesta forte di ascolto da parte di Cassa Forense. Ci è sembrato infatti che Cassa Forense abbia comunicato ma non abbia saputo fino ad oggi ascoltare le richieste e le esigenze degli iscritti. Gli iscritti vogliono sì un trattamento pensionistico, ma vogliono un'assistenza nel quotidiano e vogliono dei risultati concreti nell'attualità. È per questo che noi chiediamo appunto il vostro voto per Cassa Forense e naturalmente esprimiamo la nostra candidatura.